ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video sono un appassionato di moto se anche tu lo sei seguimi su questo canale oggi ti parlo di bmw r1300 gs 2024 perché è arrivata a seconda nelle vendite nel mese di novembre 2023 la moto è stata presentata in italia presso i concessionari i primi giorni di novembre e si è già classificata al secondo posto delle vendite nello stesso mese nel mese di novembre 2023 la prima moto in classifica la belle trk 702 perché ne sono state vendute 946 unità ma la seconda appunto classificata bmw r1300 gs che ha venduto 240 unità quindi una moto che malgrado le critiche che l'hanno preceduta nella presentazione si dimostra da subito vincente tra l'altro non è stata presente ufficialmente nemmeno ad eicma quindi veniamo a capire i motivi di questo successo che di fatto parte da dal 1250 che per anni è stata ai vertici delle classifiche una moto che già conosciuta dal pubblico è stata ripresentata con caratteristiche diverse e quindi vediamole più in dettaglio queste caratteristiche quindi la moto eccola qui questa è la versione trofi dopo vi vedremo anche il prezzo alla fine partiamo però dal motore che è stato riprogettato infatti la nuova cindata di 1300 centimetri cubici è stata ottenuta proprio aumentando l'alesaggio ed in mendo di fatto la corsa del precedente motore è stato mantenuto poi il sistema denominato shift cam dove la parola shift indica proprio lo spostamento della fasatura quindi la valvola si apre prima o dopo e di quanto rimane aperta in durante appunto la fase di apertura quindi un sistema dinamico molto appunto importante per arrivare a questi livelli di potenza che vediamo poi aumenta quindi anche il rapporto di compressione rispetto alla versione precedente il cambio poi è stato posizionato che questa è una grande novità quindi un rifacimento totale del motore perché il cambio dicevamo è sotto il motore e ha permesso questa nuova architettura di ridurre di fatto il peso del motore di 6,5 chilogrammi e inoltre di abbassare ulteriormente il baricentro della moto che per quanto riguarda i bicilindrici boxer è già piuttosto basso vista dell'architettura per quanto riguarda il telaio poi esso una nuova struttura è stata irrigidita e il telaietto posteriore qui si vede bene nell'immagine è stato sostituito prima era in un traliccio d'acciaio adesso è un alluminio in alluminio pressofuso anche i due sistemi di sospensione che sono rispettivamente telelever anteriore parallela posteriore sono stati migliorati è un'interessante caratteristica della sospensione cosa è quella di avere un sistema elettronico che agisce su due molle una affiancata all'altra per avere un sistema che è più o meno rigido secondo delle esigenze ed è tutto gestito automaticamente nelle prove che ho visto della moto infatti la moto si dimostra molto come dire gradevole nell'utilizzo quindi adatta sicuramente lunghi viaggi proprio grazie a questi sistemi poi dal punto di vista estetico la moto pare quindi più leggeri infatti rispetto alla precedente gs è sicuramente più leggera soprattutto nella parte posteriore che però hanno forme che possono piacere un pubblico sicuramente più giovane più giovanile insomma nell'aspetto la parte frontale poi si presenta anche questa rispetto al precedente modello più slella pur essendo naturalmente una moto di questa cilindrata viene che è stato cambiato il gruppo ottico che ha questa forma a x a qualcuno è piaciuto a qualcuno un po meno e sopra il gruppo ottico c'è poi il radar quindi anteriormente posteriormente è stato posizionato anche il nuovo radar e quindi abbiamo già detto per quanto riguarda la parte posteriore la presenza del del nuovo della nuova telaietto poi in pratica dopo tutte queste modifiche la moto pesa 12 kg in meno ea 9 cavalli in più rispetto alla precedente versione il raffreddamento rimane poi misto ad aria liquido col doppio albera cam in testa e aumenta il rapporto di compressione quindi la potenza massima passa a 145 cavalli a 7.750 giri al minuto anche la coppia aumentano leggermente passa 149 newton metro 6.500 giri al minuto il telaio un acciaio ha una maggiore rigidità e si unisce poi al telaietto per la parte posteriore viene rinnovato il tele lever che assume adesso la dominazione evo infatti l'escursione della ruota di 190 mm mentre al posteriore il sistema si chiama evo pallarever anche questo quindi è stato aggiornato con dei giunti ad esempio più più grandi e garantisce l'escursione della ruota in questo caso di 200 mm l'altezza della sella 850 mm ma si possono poi avere selle ad altezze in optional variabile le ruote comunque abbastanza bassa la sella l'altezza della sella non è eccessivamente alta le ruote sono da 19 pollici anteriore 17 pollici al posteriore in alluminio pressofuso e il poi c'è anche la versione a raggi per quanto riguarda le moto che sono destinate più un utilizzo fuori stradistico il freno anteriore poi formato passiamo all'impianto frenante lo vediamo bene nell'immagine da una coppia di dischi semi flottanti con diametro di 310 mm le pinze sono radiali 4 pistoncini mentre al posteriore il disco singolo diametro di 285 mm con la pinza flottante a doppio pistoncino serbatoio ha una capacità di 19 litri il peso in ordine di marcia e con il pievo di benzina di 237 kg quindi c'è stata una riduzione per quanto riguarda il peso il prezzo della versione trofi è di 23.785 euro se ti è piaciuto il video mette un like se non ti è piaciuto dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi primo ti costa nulla ma favorisce la diffusione del canale secondo qui ho sempre degli aggiornamenti come puoi vedere quindi poi rimani sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata